Dopo un anno di stop torna il Teatro Dialettale al Maruccino di Chieti. Quest'anno il cartellone cosa ci propone? È un cartellone, diciamo così, delle migliori compagnie che stanno in Abruzzo e propone delle commedie brillanti, comiche, perché in questo periodo, diciamo, di Covid, di questa roba qua ci vuole che le persone, gli spettatori che vengono al teatro, che escono, diciamo, con un sorriso. Qual è il filo conduttore di questa rassegna? Il filo conduttore, ripeto, è di commedie molto leggere e brillanti. Nove compagnie dialettali per nove spettacoli che partiranno venerdì 21 gennaio. Il dialetto è la ricchezza e la storia di un territorio. Per questo motivo, se dovessero esserci restrizioni nel periodo invernale, il presidente della deputazione teatrale, il Maruccino, Giustino Angeloni, ha chiesto alle compagnie di tenersi disponibili per recuperare eventualmente gli spettacoli annullati causa Covid. A fine stagione teatrale 2022 sarà poi scelta la compagnia che verrà premiata con il premio Maruccino e la giuria quest'anno sarà composta dagli abbonati, oltre che da una giuria tecnica. Agli spettatori che vorranno conoscere la storia e le bellezze del teatro verranno proposte anche visite guidate di un'ora dalle 20 alle 21 prima degli spettacoli. Grazie. Grazie.